A Bitrito quella di San Giuseppe è una grande festa di popolo, si accendono i falò in piazza e nelle viuzze di tutto il paese, si fa benedire il pane e si mangia insieme. Le celebrazioni in onore del santo quest'anno hanno avuto anche una colonna sonora speciale, la musica di Pino Daniele, scomparso di recente, a cui accanto ai falò è stata dedicata un concerto, una jam session con 30 gruppi musicali. Il 19 marzo il cantante napoletano avrebbe festeggiato non solo San Giuseppe ma anche il suo sessantesimo compleanno. Il like motive della serata era proprio quella di riprendere la musica di Pino e Daniele nelle sue varie sfaccettature e con varie situazioni musicali. Come sempre tutta la città si è mobilitata per questa festa, nei vicoli le famiglie che abitano vicino hanno accatastato le fascine, acceso il fuoco e cucinato insieme. Il fuoco riscalda e annuncia la primavera, secondo la tradizione si compie il rito della purificazione, si invoca a San Giuseppe perché il raccolto sia buono e si degustano piatti tipici, legumi e pane. La tradizione è un misto di legumi. Come sono cucinati? Niente, acqua, sale, c'è chi li vuole piccante. I cannoni della tradizione perché il falò rappresenta la civiltà contadina, la legumata rappresenta il cibo dei poveri perché i poveri che non potevano mangiare la carne si cipavano di legumi. In piazza Moro intanto si suona e anche le fiamme dei falò sembrano danzare al ritmo delle canzoni di Pino Daniele.